Un diamante è per sempre, a patto però che non venga rubato. Un bosniaco 52enne è stato arrestato per il furto di un anello da 9.000 euro. La compagna, complice, è stata denunciata a piede libero. L'episodio risalla ieri pomeriggio. L'uomo entra nella gioielleria Veronelli di Lurago d'Erba con la compagna in dolce attesa e dice che vuole scegliere un regalo prezioso. Si fa mostrare diversi articoli. È indeciso tra un orologio di pregio e un anello da 9.000 euro un trilogy con tre pietre preziose. Poi sceglie l'orologio ma non ha i contanti. Quindi dice al gioielleria di aspettare qualche minuto, giusto il tempo di andare nella vicina banca e ritirare i soldi necessari. Esce dal negozio e il commerciante si accorge che l'anello è sparito. L'uomo chiama quindi i carabinieri di Lurago d'Erba che bloccano il bosniaco 52enne e la compagna mentre si stanno allontanando. Il ladro cerca anche di disfarsi dell'anello ma viene visto dai carabinieri che lo arrestano. La compagna invece, poiché incinta, viene denunciata in stato di libertà e dovrà rispondere del concorso nel furto.